L'Istituto Alberghiero Santa Marta non sforna solo piatti, ma pure talenti che a loro volta sfornano piatti da premio. È il caso della 19enne fanese Denise Ambrosi della quinta B sezione Cucina, che ha vinto il titolo regionale come miglior allievo Istituti Alberghieri. Si diventa primi in questo settore tirando fuori tutti gli strumenti, tutte le armi, combattendo e tanti sacrifici ci devono essere dietro a questi traguardi. In questo caso le mie armi sono la grinta, la forza, la voglia di arrivare a punto prima. Devo ringraziare soprattutto al mio lavoro perché io ormai sono tre anni che lavoro e all'esempio meraviglioso dei miei genitori che hanno iniziato a lavorare da quando sono giovani e anche davanti alle difficoltà non si sono mai piegati, hanno sempre combattuto. È stata una grandissima soddisfazione, devo ringraziare soprattutto alla formazione che mi ha fornito il mio prof Gabellini Roberto, che è il mio professore di cucina da cinque anni, ma anche la formazione per quanto riguarda il concorso che mi ha fornito Giacomo Santini, che è sempre un professore bravissimo di cucina. Da campionessa regionale che ha battuto altri sette studenti marchigiani, ora Denise si cimenterà con le sfide nazionali che si terranno a Rimini. Le nazionali sono pesanti lì, non ci sono sette persone ma ce ne sono un po' di più, però l'importante è partecipare, dopo come va va.